Domenica 27 febbraio, proprio qui, Schiranna, ore 15 e 30, è l'appuntamento con la fase finale. Direi il momento protocollare finale, lo stappare dello spumante e il gesto fatidico del vincitore. Si tratta del trentesima edizione del Rally dei Laghi internazionale che qui proprio alla Schiranna si concluderà dopo una tre giorni tanto impegnativa. Venerdì con le verifiche, giorno 25 dunque febbraio, poi sabato con lo shutdown, sabato 26 febbraio, lo shutdown, le prove tecniche delle vetture in assetto da gara e la prima prova speciale nel corso del tardo pomeriggio appunto del sabato, sul sette termini. Poi la domenica il clou, cioè tutte le altre prove speciali sono sei, che nel totale di sette appunto di un'edizione numero 30 appunto del Rally internazionale dei Laghi che valevole quale prima prova di campionato della Coppa Rally di zona. Ma ora cerchiamo di capire meglio proprio quali sono gli elementi base che portano questa gara a essere così tanto attesa ma soprattutto a societare un grande entusiasmo tra team, scuderie, piloti, piloti e navigatori e una serie di tam-tam di base di cui siamo anche noi protagonisti. Non dimentichiamo che Prealpina e Sempione News con i social collegati e oltre al sito prealpina.it sono appunto media partner e dedicheranno grande spazio. Ci sarà anche uno speciale sull'edizione cartacea e online che dirà tutto. Le prove speciali sono tre diverse. Si parte da sette termini, dicevamo che è la prova d'apertura, quindi si sviluppa con il Clou del Covignone che è ripetuto due volte mentre a sette termini tre volte e un'altra prova che viene ripetuta due volte è certamente la Valganna in una nuova configurazione. Dunque ci sono elementi di novità con elementi di consolidamento ormai di una tradizione che non dimentichiamo che dagli anni 70 fa del Varesotto una terra proprio di motori legata al mondo dei re. Grazie. Grazie.